Sono passati quattro mesi dal giorno in cui, tornati dalle ferie parzialmente imposte dall'azienda, gli operai della Ayer si sono ritrovati davanti a un cancello chiuso. La notizia è che l'azienda, gestita da cinesi, avrebbe chiuso e portato la produzione altrove, l'hanno saputa dai giornali. Oggi, davanti a tutti i delegati FIOM della regione, le operai e gli operai della Ayer hanno ribadito che non si arrenderanno. Hanno passato tre mesi in picchetto davanti all'azienda e lì hanno trascorso anche le feste natalizie. Sulla strada ci sono 102 famiglie. Noi abbiamo in tutti questi anni, abbiamo dato tutto il nostro contributo, non abbiamo mai fatto nessuna protesta o qualche sciopero. Quando gli dicevano fare straordinaria estate, siamo sempre stati d'accordo e siamo sempre venuti. Quando gli dicevano stare a casa integrazione, a casa perché c'è poco da fare, abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre ubbidito l'azienda e allora chiediamo l'azienda un po' di disponibilità da parte sua. Insomma, il lavoro come primo elemento dal quale partire per costruire poi un dialogo sul contratto, ma l'incontro FIOM di oggi è stata anche l'occasione per fare il punto sull'occupazione di dire che l'uscita dalla crisi più volte annunciata dal governo è ancora lontana. C'è stato un aumento dei consumi interni negli ultimi mesi, però c'è stato un freno per quanto riguarda le esportazioni dovute anche insomma alle dinamiche internazionali, il rallentamento delle economie mondiali, ma parlare di uno zero virgola non ci consente appunto di guardare con serenità a una stabilizzazione. Sono stati dati tantissimi soldi alle imprese che continuano a non investire in formazione e come dimostrano anche i tavoli che saltano sui nuovi contrattuali, pensano ancora di poter competere abbassando i salari.